L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, chiede agli enti nazionali di accelerare sull'utilizzo di emergenza della pillola anti-covid prodotta dalla Merck, già autorizzata dall'Agenzia Britannica. I contagi risalgono in tutta Europa. In Italia gli attualmente positivi sono quasi 100.000 e il governo spinge sulla terza dose. È crisi al confine polacco dove migliaia di migranti premono dalla Bielorussia tentando di varcare la frontiera. Bruxelles critica il disperato tentativo del regime di Minsk di usare le persone per destabilizzare l'Unione Europea. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, minaccia sanzioni. Alla conferenza sul clima di Glasgow Obama attacca Donald Trump addossandogli tutta la colpa del ritardo degli Stati Uniti nella lotta ai cambiamenti climatici. Alcuni dei nostri progressi si sono fermati quando lui ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall'Accordo di Parigi. Ma i giovani lo contestano, non sono state mantenute le promesse. E' iniziata la preparazione della Nazionale di Calcio in vista del doppio impegno dell'Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord per le qualificazioni a Mondiale di Calcio. Decisiva per poter andare in Qatar sarà la sfida di venerdì all'Olimpico di Roma contro la Svizzera. Sarà una gara importantissima ma dobbiamo essere tranquilli, dichiara il CT Mancini. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Occhi puntati sull'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia. Avete sentito dai titoli che siamo arrivati a 100.000 attualmente positivi ma la situazione, rassicurano gli esperti, è sotto controllo. E questo anche grazie ai vaccini naturalmente che ci garantiscono numeri ben differenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E proprio su questo si continua a spingere adesso per cercare di accelerare sul fronte della terza dose. Governo ha lavoro per mettere a punto quel piano, dunque per contenere la risalita dei contagi di cui fa parte, probabilmente farà parte anche la proroga dello stato di emergenza. Sul fronte delle cure invece potrebbe presto essere disponibile un antivirale che ha già avuto il via libera in Gran Bretagna. Vediamo. La pillola anti-covid potrà essere utilizzata in contesti di emergenza ancora prima della sua autorizzazione al commercio. È quanto emerge da una nota dell'Agenzia Europea del Farmaco che nel più breve tempo possibile fornirà raccomandazioni a livello di Unione Europea per aiutare gli stati a decidere sul farmaco Molnupiravir e sulla sua utilizzazione precoce. L'accelerazione di EMA e delle autorità nazionali di sorveglianza è dettata dall'aumento dei casi di positività in molti paesi dell'Unione. Il Molnupiravir è un antivirale per via orale sviluppato nei laboratori della multinazionale Merck che già è stato autorizzato in Gran Bretagna. L'obiettivo dell'EMA è quello di rendere disponibile il farmaco ancora prima della conclusione del processo di autorizzazione per l'emissione in commercio che procede in parallelo e che si basa sull'esame in tempo reale dei dati che emergono da test clinici e sperimentazione. Una strategia concordata con i responsabili delle agenzie nazionali del farmaco, tanto è vero che in Italia l'AIFA e il Ministero della Salute si sono subito detti pronti a trattare in brevissimo tempo l'utilizzo in via emergenziale della pillola anti-Covid. Il Molnupiravir interviene su un paziente positivo al Covid con almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di uno stadio grave della malattia. Nei test effettuati, ad esempio, ai pazienti affetti da diabete o malattie cardiache, l'utilizzo della pillola antivirale avrebbe dimezzato le probabilità di ricovero o di morte. Tutto mentre in Italia siamo tornati ormai a quasi 100.000 persone attualmente positive. Nessuna drammatizzazione, anche perché l'Italia, insieme con la Spagna, registra una crescita dei casi meno rapida. Ma per ridurre al minimo gli effetti di questa nuova ondata, il Governo punta a raggiungere l'obiettivo del 90% della popolazione vaccinata e ad abbassare l'età per la terza dose. Il Governo è impegnato anche nella gestione di tutte quelle manifestazioni di dissenso nei confronti del Green Pass che, come ben sappiamo, si sono moltiplicate. Questo per garantire non soltanto il diritto di chi manifesta, ma anche il diritto degli altri cittadini e dei commercianti. E sono in arrivo per questo nuove regole. Nessun divieto, ma limitazioni e regole più ferree. Le proteste no Green Pass, che ogni sabato bloccano le città italiane, d'ora in poi dovranno avere dei limiti. Non più cortei che attraversano i centri storici, ma sit-in, possibilmente lontano dagli obiettivi sensibili. In diverse città ormai si comincia ad adottare questa linea che autorizza solo proteste statiche, in alcuni casi lontano dalle vie dello shopping. La stretta arriva dal Viminale. I comitati provinciali, convocati in tutti i luoghi dove sono state chieste le autorizzazioni per il fine settimana, dovranno tenere conto di queste disposizioni, che guardano al dispositivo di sicurezza messo in piedi per i G20 di Roma. L'obiettivo è quello di garantire la libertà di manifestare, ma anche di tutelare coloro che dissentono. Cittadini comuni e commercianti. Secondo ConfCommerce e ConfEsercenti, i negozi coinvolti nelle proteste Novax hanno avuto un calo del 30% del fatturato. Inoltre sono sempre più numerosi gli appelli e le iniziative dei comitati cittadini, che chiedono di limitare queste manifestazioni, che a loro dire causano danni non solo sociali ed economici, ma anche sanitari. Come è successo a Trieste, dove la protesta dei portuali ha causato un picco di nuovi contagi. Il prefetto della città ha così vietato ogni tipo di manifestazione fino al 31 dicembre in piazza Unità d'Italia. Parole severe arrivano anche dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia Federica. Bisogna evitare i comportamenti che facciano aumentare il contagio. Questo è inaccettabile, pochi non possono limitare la libertà di tutti. Pugno duro anche del sindaco di Padova, che ha deciso di vietare i cortei, consentendo solo sit-in lontani dal centro. E per quanto riguarda l'andamento della pandemia, a livello europeo la situazione che preoccupa di più è quella della Germania, dove il tasso di nuovi casi da Covid è il più alto dall'inizio, pensate, della pandemia. L'incidenza settimanale è in continua crescita, i non vaccinati sono quasi un terzo dei tedeschi e l'Ende hanno già iniziato a chiudere. Nuove restrizioni sono entrate in vigore in Baviera, uno degli stati più colpiti per entrare in locali al chiuso. Come ristoranti serve il Green Pass per provare di essere vaccinati o guariti. Per gli altri è richiesto un test molecolare, quello rapido non è più sufficiente. In Francia questa sera parlerà il presidente Macron per dare la linea su come affrontare la recrudescenza della pandemia. Una delle opzioni del leader francese è l'obbligo della terza dose. Intanto, mentre continuano in Italia gli sbarchi, c'è un dramma che si sta consumando al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Vediamo cosa sta succedendo. Sono accalcati a migliaia tra la Bielorussia e l'estremo confine orientale dell'Europa e tentano in tutti i modi di oltrepassare il filo spinato. Sono soprattutto iracheni e siriani, alcuni arrivano dall'Africa subsahariana. Sono il volto dell'ennesima emergenza migratoria che si consuma oramai da mesi alle porte dell'Europa. Ed è più di un sospetto che si tratti di un tentativo da parte dell'uomo forte di Minsk, Lukashenko, di fare pressione su Bruxelles, che non vede di buon occhio il regime bielorusso a cui sono state imposte pesanti sanzioni proprio per le sistematiche violazioni dei diritti umani. Chi riesce ad oltrepassare il confine polacco raggiunge poi facilmente la Germania. Varsavia, che ha schierato 12.000 soldati, quest'anno ha registrato oltre 23.000 ingressi illegali, di cui quasi la metà soltanto ad ottobre. E ora Berlino esorta l'Unione Europea ad agire al più presto. Germania e Polonia non possono farcela da sole, ha detto il ministro degli interni tedesco Siehofer. Bruxelles si è schierata più volte contro il progetto polacco di innalzamento di un muro per proteggere i propri confini e ha recentemente respinto la richiesta di Varsavia di finanziare il progetto. Il presidente del Consiglio Europeo, Michel, nelle ultime ore, ha invitato le autorità della Bielorussia a rispettare il diritto internazionale. L'Unione ha detto non accetterà alcun tentativo di strumentalizzare i migranti per scopi politici, mentre la numero uno della Commissione von der Leyen chiede addirittura di estendere il regime di sanzioni nei confronti di Minsk. Anche l'amministrazione Biden è intervenuta invitando la Bielorussia a smettere di manipolare i migranti bloccati dalla Polonia e respinti dalle guardie di frontiera bielorusse che si rifiutano di farli tornare indietro, intrappolati in questa terra di nessuno. Alla conferenza ONU sul clima che è in corso a Glasgow e che si concluderà venerdì, si lavora la bozza finale del documento finale. Ieri è stato il giorno di Obama che è salito sul palco, ma rispetto al quale comunque non sono mancate le critiche da parte dei giovani attivisti. Alla COP26 di Glasgow, la star, ieri è stato Barack Obama. Il tempo sta scadendo, è stato il messaggio dell'ex presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto significativi progressi dall'accordo di Parigi, ma dobbiamo fare di più. Il leader democratico ha anche ricordato che stiamo entrando nel decennio decisivo per evitare il disastro climatico. Per questo, dice la lotta, dovrebbe trascendere la normale geopolitica. Senza Cina, India e Russia non si va avanti. È stato molto scoraggiante ha munito Obama vedere i leader dei due maggiori paesi emettitori, Cina e Russia, rifiutarsi persino di partecipare ai lavori. I loro piani nazionali riflettono quella che appare una pericolosa mancanza di urgenza. Ma la parata di stare e la mancanza di impegni stringenti non piace agli attivisti. Signor Obama, avevo 13 anni quando lei ha promesso un finanziamento di 100 miliardi di dollari per la tutela del clima, ha risposto al presidente Vanessa Nakate. Gli Stati Uniti hanno infranto quella promessa che costerà delle vite. In Africa, il paese più ricco del mondo, non sta facendo abbastanza in termini di fondi stanziati. Vogliamo i fatti. Obama, per le promesse non mantenute dalla colpa a Trump, alla sua uscita dagli accordi di Parigi, siglati proprio dalla presidenza democratica, e dalla mancata fiducia nella scienza che ha contraddistinto il partito repubblicano, poi chiede ai giovani arrabbiati di divenire adulti per aprirsi alla mediazione, proprio mentre Greta Thunberg abbandona il vertice e se ne torna a casa, criticando la presenza pervasiva dei rappresentanti delle industrie più inquinanti. Vogliamo che rimaniate arrabbiati, è il messaggio che lascia i giovani Obama, ma canalizzate questa rabbia in quella che è una maratona, non uno sprint. Le proteste sono necessarie, ma per costruire coalizioni più ampie bisogna raggiungere anche chi non è convinto. Sul fronte politico nel centrodestra si guarda le elezioni amministrative del prossimo anno e si parla di primarie per la scelta dei candidati. Il dibattito è di nuovo teso all'interno del centrodestra. Il confronto ora si accende sulla questione delle candidature alle elezioni amministrative del prossimo anno. Matteo Salvini, dopo la sconfitta nelle principali città di circa un mese fa, propone il metodo delle primarie di coalizione per la scelta dei candidati sindaci, laddove non si dovesse raggiungere agevolmente un'intesa tra le segreterie dei partiti. L'iniziativa del leader dei leghisti sarebbe una reazione alla decisione di Fratelli d'Italia di presentare autonomamente un proprio uomo alla carica di sindaco di Como in occasione delle prossime elezioni. Sicuramente se ognuno lancia il suo candidato a prescindere dalla coalizione, dice Salvini, non è un gioco di squadra. E quindi la proposta. Anziché litigare per mesi, l'invito al centrodestra è che laddove non c'è un accordo facciamo le primarie, facciamo scegliere i cittadini. Silvio Berlusconi, fuori dal seggio elettorale, ottobre scorso, criticò duramente le procedure che avevano portato alla scelta di Michetti e compagni, auspicando che i prossimi candidati della coalizione venissero indicati non dai vertici dei partiti ma dalle primarie. Nessuna reazione ufficiale invece da Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgio Meloni potrebbe valutare la questione tra le altre giovedì prossimo quando riunirà il Consiglio nazionale. Al momento però nella forza di opposizione di destra c'è chi ricorda alla Lega che Fratelli d'Italia è sempre stata favorevole alle primarie e che semmai erano altri che in passato hanno opposto resistenza. Silvio Berlusconi intanto rilancia il ruolo del suo partito e ai vertici di Forza Italia, riuniti ad Arcore, pensando alle prossime scadenze, dice alle elezioni del 2023 si tornerà alla contrapposizione tradizionale fra centrodestra e centrosinistra. Noi, aggiunge, speriamo che Draghi, che deve continuare a governare fino a quella data, possa svolgere una funzione importante anche dopo. È d'accordo sul fatto che Draghi debba governare fino al 2023 e anche il Movimento 5 Stelle. L'obiettivo di questa maggioranza allargata è quello di attuare il recovery plan e il punto di equilibrio del governo è Mario Draghi. Parole e auspici del leader del Movimento 5 Stelle che ieri a 8 e mezzo sulla 7 ha ribadito la sua volontà di portare a termine la legislatura. Non si può interrompere prima della sua scadenza naturale del 2023, ha detto l'ex Presidente del Consiglio, esplicitando con estrema chiarezza il suo pensiero e quello della stragrande maggioranza dei parlamentari grillini. Draghi resta un punto di equilibrio dell'attuale sistema politico, ma solo se resta a Palazzo Chigi fa capire e la precisazione del leader del maggior gruppo parlamentare di questa legislatura pianta un paletto importante nel dibattito ormai già caldissimo sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, soprattutto nell'indicare ai suoi che non ci saranno certo elezioni anticipate determinate dai 5 Stelle. Ma se il dibattito sul Colle impazza a Roma, la partita di Conte si gioca anche a Bruxelles. La svolta potrebbe arrivare già prima di Natale e qualche anno fa in pochi l'avrebbero prevista, l'ingresso del Movimento 5 Stelle nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. È stato direttamente il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio qualche giorno fa ad imprimere un'accelerazione che vede anche Giuseppe Conte sulla stessa linea. In Europa dobbiamo stare con i progressisti, erano state le parole del titolare della Farnesina e oggi Giuseppe Conte conferma anche le difficoltà. Sono d'accordo con Di Maio che ha dato atto di un percorso, ma non ho dato l'annuncio. Darò io l'annuncio quando si concretizzerà questo passaggio e quando matureranno tutte le condizioni, ma ci sono delle valutazioni in corso da tempo e i 5 Stelle possono dare un contributo di originalità. Uno degli strumenti per cercare di sostenere la ripresa è l'utilizzo di bonus e tra questi il bonus term ieri nel Click Day ha sicuramente riscosso un grande successo, tanto che il portale dopo poco è andato in tilt. Quello che è certo è che intanto gli operatori del settore sono soddisfatti per la risposta massiccia che c'è stata da parte degli utenti. È saltata il primo giorno di Click Day, la piattaforma Invitalia attraverso la quale da ieri doveva essere possibile prenotare il bonus term di massimo 200 euro, come previsto dal decreto per le misure anti-covid di agosto, un modo per aiutare la ripresa di un settore in crisi colpito pesantemente dalla pandemia. La piattaforma bonus term è momentaneamente non disponibile per motivi tecnici, ci scusiamo per il disagio, sarà nuovamente attiva dal 9 novembre alle ore 12, scrive l'azienda, ma perché il sito è andato in tilt, la piattaforma è stata studiata solo per le circa 500 società termali che operano nel settore e che avrebbero avuto accesso al sistema per le prenotazioni. L'eccessivo numero di richieste è la confusione sulle modalità di prenotazione e l'utilizzo del bonus per cui anche molti cittadini si sono registrati hanno fatto saltare il portale, spiegano ancora da Invitalia, così ieri a causa della sospensione del servizio in rete migliaia di persone hanno preso d'assalto i call center dei centri termali pur di non perdere il bonus con richieste di ogni tipo. Oggi si tenta di nuovo, a disposizione ci sono in tutto circa 250.000 bonus. Nonostante tutto, Feder Terme Confindustria parla di un successo enorme viste le numerosissime richieste, solo ieri, fino a quando ha funzionato il servizio, sarebbero stati circa 2.000 gli operatori dei centri termali che hanno registrato domande. Soddisfatte anche le associazioni del turismo che stimano un giro d'affari superiori a 200 milioni di euro con circa 260.000 turisti in movimento e 500.000 per notamenti. Non è dello stesso avviso il Kodakons che sostiene che non solo il bonus sia partito con il piede sbagliato ma anche concepito male, visto che non prevede limiti legati all'Isee. Il blocco di ieri non è una prima volta, anche a inizio novembre, al primo giorno di click per il bonus bici e monopattini, era stato un flop anche in quel caso. Troppe richieste e server in tilt. Aveva un permesso di soggiorno italiano l'algerino di 37 anni che ieri mattina a Cannes armato di coltello ha aggredito un poliziotto davanti ad un commissariato. L'aggressore che era incensurato ha detto di agire in nome del profeta. Ecco, vedete nelle immagini quello che è accaduto ieri. Il poliziotto è rimasto illeso grazie al giubbotto antiproiettile. L'aggressore che è stato ferito da un altro gente non aveva precedenti, aveva un lavoro e non era schedato come radicalizzato. Si valuta comunque la pista del terrorismo. E chiudiamo con lo sport. Inizia oggi la parentesi dedicata alla nazionale, impegnata nelle ultime due gare delle qualificazioni per i mondiali. Venerdì Italia-Svizzera, snodo fondamentale della stagione che ha avuto il suo momento clou agli europei. Stavolta non si può più sbagliare. I tre punti sono d'obbligo per non dover vivere la trasferta in Irlanda del Nord, come l'ultima spiaggia in proiezione Qatar 2022. A Coverciano subito due defezioni. Gli infortunati Zaniolo e Lorenzo Pellegrini hanno lasciato il ritiro, sostituiti da Cataldi e Pessina. Non è al meglio Barella. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, sino a venerdì mattina. Gli indisponibili sono molti, cinque pure nella nazionale svizzera, ma certo Mancini non si attendeva un inizio di settimana in salita. Il CTO stenta tranquillità e la chiede anche ai suoi giocatori. Sarà una partita importantissima a fare bene e ci darebbe quasi la possibilità di andare al Mondiale. Dobbiamo restare tranquilli senza caricarci di troppa pressione. Se è venerdì, ha aggiunto il CT, giochiamo come sappiamo, faremo di sicuro bene e segneremo molti gol. Con questo obiettivo allora Mancini sorrida nel ritrovare a disposizione Immobile Belotti. Per l'occasione gli azzurri tornano a giocare davanti ad uno stadio olimpico quasi pieno. Si va verso il tutto esaurito con 52.000 spettatori. Ma la decisione del comitato tecnico-scientifico di limitare al 75% la capienza non trova d'accordo Paolo D'Alpino, presidente della Lega. Non è accettabile un trattamento diverso rispetto al cinema, che possono invece arrivare sino al 100%. E mentre la nazionale si prepara due match decisivi, il Genoa ha accolto ieri il suo nuovo allenatore, l'ex campione milanista Andriy Shevchenko, che guidava la nazionale della sua Ucraina. Intendo riportare il Genoa le sue prime parole da rosso-blu ai livelli della sua storia. Oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. Ed è tutto per questa edizione. Ora le informazioni sul traffico con Valeria Colombo e poi il meteo di Paolo Sottocorona. A seguire il dibattito di Omnibus è condotto da Gaia Tortora. Gli ospiti di oggi sono Stefano Fassina, Luca Toccalini, Maria Giovanna Maglie, Antonello Caporale, Fabio Tonacci e Carlo Verdelli. Poi a seguire Coffee Break, condotto da Andrea Pancani. Gli ospiti di oggi sono Claudia Fusani, Fabio Rampelli, Laura Ferrara, Marco Cattaneo e Maurizio Molinari. Ed è davvero tutto. La prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Vi auguro una buona giornata. Grazie Manuel.